Molto clamore al Senato per questa fiducia. Credo che siamo a un punto in cui l'Italia ha il dovere di cambiare. Lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti perfettamente. Sappiamo che quando si cambia c'è qualche resistenza di troppo. Però noi andiamo avanti con molta serenità, con molta determinazione, con molta tenacia. Stiamo portando a casa tutti i risultati. Possono contestare, possono far polemica. Ma la verità vera è che questo paese lo cambiamo. E cambiandolo facciamo l'unica cosa che veramente serve nel restituire posti di lavoro. Più 83 mila, ma c'è ancora tantissimo da fare. L'unica cosa che veramente serve è restituire fiducia alle famiglie italiane. Quindi niente paura, noi andiamo avanti. Il girone di ferro delle ragazze della pallavolo è un po' più difficile del Senato. Per cui noi diamo un abbraccio a loro. Al Senato porteremo a casa il risultato e porteremo a casa il risultato oggi. Porteremo a casa il risultato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Noi molliamo di un centimetro e con tenacia determinazione raggiungiamo l'obiettivo. Buon lavoro.